ultima partita della pool di qualificazione per c'è in champions spazio anche per soli che però appena entrate in campo si è stato messo subito la dura prova da qualche ricezione non proprio pulitissima no 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 guarda io ho solo da ringraziare essere in questa squadra e tutte le opportunità che angelo di mi dà io ringrazio veramente ho solo da ringraziare e dare tutto quello che ho in campo che cosa hai provato quando ti ha fatto un cenno dopo un time out adesso tocca a te ero contento ovviamente perché si gioca per si si allena per giocare poi un po di tensione c'è però no è stato molto bello è stato molto bello sono contento